E' più il caso di accontentarsi degli spicci qua Ci vuole in squadra e ci vogliono i fuori classi Quindi ho chiamato il Sergio che ce l'ha nel sangue Poi con il metro fa quello che vuole Poi c'è il Faustino Faustino siamo amici di Infaggia E poi c'è il Beppe cazzo Quello è capace di andare a 200 all'ora su due ruote Alcuni indizi farebbero pensare alla banda pallartasca Io sono Francesco Ratello Lui è nato alla sasca e deve stare al posto su Questi qua vanno eliminati con qualsiasi innenso E ti rendi conto dei disastri che stai combinando? Vuoi fare la barra al mondo? Ci torna mica indietro sai?